Benvenuti amici di MobileOS, siamo in compagnia dell'Aspire R13 Convert, sempre qui da Acer, dispositivo davvero molto interessante. Come avete visto sono partito con una scritta perché praticamente c'è una penna per poter usare questo convertibile fondamentalmente, da 13 pollici, con Windows 8.1 all'interno davvero interessante. Direi quindi di chiudere ora questa parte, obiettivo naturalmente è touch, si attiva qui tutte le impostazioni riguardanti la penna, naturalmente non serve toccare, basta andare a puntare ad una certa distanza e quindi per esempio si può scegliere di andare a prendere delle note, a disegnare, a fare dei ritagli, quindi direi una penna molto molto utile. Questa è la vera novità secondo me di questo tablet, unita a naturalmente la possibilità di fare di tutto con lo schermo di questo particolare dispositivo. Infatti si può usare come tablet, si può andare a rialzare il dispositivo in questo modo, si può usare anche come un classico dispositivo e inoltre volendo si può usare anche in quest'altra posizione, quindi direi che è davvero molto molto versatile questo convertibile di Acer. Detto questo, il dispositivo che monta all'interno un display touchscreen da 13 pollici e troviamo una batteria che regge fino a 8 ore di batteria. Detto questo, Acer veramente ci dice anche che lo schermo è ricoperto tramite il Gorilla Glass 3, ma non ci dà ulteriori informazioni, quindi noi le andiamo praticamente a prendere in questo modo, andiamo su, tu riprendi, poi taglio eh, non ti preoccupare, tu riprendi. Andiamo quindi sul computer per scoprire quali sono le caratteristiche tecniche del dispositivo. Abbiamo l'Intel Core i7 4510U, una CPU da 2GB che arriva fino a 2.60, memoria installata 8GB di RAM e 64 bit per quanto riguarda Windows 8.1. Totale supporto alla pen, quindi queste sono le varie informazioni. Infine, vogliamo andare a vedere anche quant'è lo storage a disposizione, abbiamo 460GB, quindi possiamo dire uno spazio ben ampio. Quindi questo era un po' tutto quello che riguardava l'Acer R13 convertibile, non abbiamo ulteriori informazioni né sul prezzo né sulla disponibilità, qui l'Acer, ma questo è davvero un dispositivo sicuramente da particolare e molto molto unico direi.